Oh! 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 Al tuo fianco sempre io sarò e da solo mai ti lascerò ovunque tu sarai ti seguirò e così per te io canterò Vinci per me, magico lupo, vinci per me Iniziata! scusami gillenire partirello di serra la formazione è quella classica mentre pure nonni nel romansidio è quinto e sesto ma non mi ricordo bene quindi bisogna stare sicuro un po' a te e sui G per noi primo minuto due classi verso la Lai la buttiamo fuori con la piana loro tiro smorzato anzi ribattuto fa galla siamo a febbraio e fa galla è regolare questa palla vai Di Nardo vai Di Nardo si ferma sono due si ferma sono due carichiamo bello sto pallone Maldonado 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 immediatamente come l'ultima partita in cross Maldonado Maldonado Grazie a tutti.